Benvenuti in un nuovo episodio di Made It. Questa settimana vi portiamo un'intervista abbastanza speciale perché abbiamo infranto una regola di Made It, cioè l'ospite di oggi è David Notaker, il founder di Sender, ma non è italiano. David è tedesco, però è cresciuto a Lugano e quindi parla benissimo italiano. Cos'è Sender? In poche parole, Sender praticamente lo descrive anche David come un Uber per i camion. È una mega scale up tedesca che ad oggi ha raccolto più di 350 milioni di euro da grandi fondi quali Lexar, HV Capital, tanti altri. Sender adesso ha più di mille persone nel team, 11 uffici, ma non è partito andando tutto liscio e tutto bene e sono queste le storie che ci piacciono di più raccontare su Made It. Il primo business model di Sender non era per niente andato, il fatturato era quasi zero e David ci racconta davvero tutto questo inizio, queste difficoltà sia finanziare sia con il suo co-founder che poi è andato via, cioè tutte queste cose che all'inizio non davano molta speranza che il business sarebbe andato così bene. Vi invito ad ascoltarla ed arrivare fino alla fine perché è una intervista che dimostra quanto sia resiliente David. È tutta una combinazione di fattori che lo hanno reso un imprenditore davvero di successo, quindi ascoltatevi, lascia l'ascolto e fateci sapere assolutamente se vi è piaciuta l'intervista lasciandoci un commento su Spotify o sui nostri canali social, ci fa sempre molto molto piacere leggere i vostri commenti. David benvenuto su Made It, siamo felicissime di averti sul nostro podcast, sei uno dei più grandi diciamo startupper europei e anche se non sei italiano e quindi abbiamo fatto un po' una diciamo un'eccezione alla nostra regola, però sei cresciuto a Lugano e quindi parli benissimo italiano. Su questo podcast ci piace cominciare sempre dagli inizi per capire un po' la persona che sei e quindi ti volevo chiedere cosa dobbiamo sapere del contesto in cui sei nato per capire la persona che sei oggi? Quello che dovresti sapere è che credo che mio papà che era imprenditore, anche lui ma imprenditore vecchio stampo, ha avuto senza volerlo un grande impatto su tutta la famiglia. I miei fratelli ed io siamo diventati imprenditori e anche mia madre adesso è diventata imprenditore, è un'imprenditrice e credo che mio papà abbia avuto appunto questa grande influenza su tutti noi. Hai sempre saputo da ragazzo crescendo che avresti voluto fare l'imprenditore o avevi altri sogni? Avevo anche degli altri sogni, mio papà mi diceva sempre puoi fare quello che vuoi, però devi essere bravo. Quando ero piccolino al mare faccio la bancarella già da proprio piccolo per vendere prima i giocattoli, poi gli anni successivi mi attrezzavo, magari andavo a comprare le cose e poi le rivendevo e quindi credo già allora, senza saperlo c'era un po' questa voglia di essere imprenditore. La vita di un imprenditore lo sappiamo è fatta di alti e bassi, quindi ci sono i momenti in cui le cose vanno bene, le cose vanno male. Tu padre ha avuto questi alti e bassi, li portava magari a casa, queste cose, sapevi a cosa andavi incontro o è sempre stato tutto positivo diciamo? Adesso la capisco ancora di più. Quanto è difficile alcune volte essere imprenditore, naturalmente l'abbiamo visto con mio papà che ne ha viste di tutti i colori, ripeto, ho vecchio stampo quindi ancora non nel mondo del tech, del venture capital, dove secondo me può essere ancora più duro il lavoro di imprenditore. Mio papà mi diceva sempre, raccontava sempre una barzelletta che fino a qualche anno fa non capivo e che era quando c'è qualcuno che vuole litigare con me nel contesto professionale, la risposta che gli dico sempre è non ti preoccupare, io vedo un giudice tutti i giorni e quello che non capivo è che comunque come imprenditore devi vivere con questa insicurezza e devi avere delle sfide che nel caso della barzelletta possono anche finire di fronte a un giudice ma che rappresentano proprio questo mindset di poter vivere e anche dormire con delle pressioni, con delle insicurezze che magari altra gente che non ha visto questo fa più fatica a accettare e prendere certi rischi che un imprenditore deve prendere. Sì infatti vediamo che tante persone che passano da questo podcast hanno genitori che sono stati imprenditori ovviamente non tech però comunque hanno vissuto e conoscono un po' il mondo dal fuori può sembrare no? Gestisci il tuo tempo, puoi fare un sacco di soldi, vedi un po' le cose positive ma è difficile pensare che ti porti il lavoro a casa 24 ore su 24 che quando hai degli stress magari li vivi anche in maniera molto solitaria e la responsabilità delle persone che magari hanno famiglia mutui contando sulla tua azienda quindi ovviamente è un peso grosso da portare addosso. Però prima di fare l'imprenditore da un piccolo background hai studiato LSI poi hai fatto, sei andato da Roland Berger, è francese o lo pronuncio male? È francese, l'ho pronunciato giusto allora perfetto, sei stato consulente da Roland Berger e poi hai lanciato la tua prima startup prima di andare a fare il tuo MBA all'INSEAD e ti volevo chiedere di questa prima esperienza da startupper quindi avevi lanciato un'azienda che si chiama Smiling Box in che modo questa esperienza ha posto un po' le basi per il tuo percorso imprenditoriale, cosa è successo poi all'azienda perché non sei andato avanti? L'idea era nata quando i miei fratelli e io ci siamo rivisti un Natale e abbiamo visto che alcuni di noi magari avevano mangiato un po' tanto e quindi eravamo ingrassati un pochino quindi nel mondo della consulenza avevamo sempre questa frutta che veniva offerta con un delivery service settimanale e quindi mentre eravamo a Natale tutti assieme avevamo poco da fare per gioco quasi e abbiamo detto beh dobbiamo fare un business plan e poi da questa prima idea Natale è nata la prima startup Smiling Box che poi mio fratello ha fatto a tempo pieno e l'abbiamo fatto per due anni, è una bellissima esperienza, mio fratello tuttora lavora con me poi anche lui ha fatto la sua esperienza in consulting ma era un po' la base del nostro rapporto anche professionale che tutto va avanti e quindi è stata una bellissima esperienza, una delle prime armi imprenditori, eravamo una delle prime armi e poi abbiamo creato anche un rapporto speciale tra di noi che ripeto ancora oggi lo portiamo avanti, lui gestisce per Sender il mercato più importante e anche quello che funziona meglio. E come mai hai deciso di andare a fare un MBA? Era proprio con l'idea di lanciare poi la tua azienda o sei andato per cambiare carriera? Anche lì era proprio perché dopo quasi quattro anni di consulenza volevo fare qualcosa di diverso un break ma non sapevo cosa, magari potrebbe essere anche un anno di MBA per poter tornare in consulenza infatti ero uno di quegli studenti sponsor quindi dove il mio datore di lavoro mi aveva finanziato appunto l' MBA e poi sono andato a fare questo MBA, una esperienza bellissima, proprio nel primo semestre ci siamo trovati nel primo gruppo a fare un lavoro di gruppo per il fondatore di BlaBlaCar che aveva fatto anche lui l' MBA alla stessa università e quindi c'era un case study ed è questo case study e questo lavoro di gruppo è nato un po' la prima idea di Sender 1.0 e alla fine dell'anno, nel 2015, sono riuscito a convincere uno dei miei compagni di classe a venire con me a Berlino per lanciare appunto Sender subito dopo quindi poi avevo preso la decisione di non tornare in consulenza almeno per il momento perché volevo provare a lanciare Sender. Come ti è venuta però l'idea diciamo di Sender e so che avete poi fatto un pivot quindi all'inizio che cosa doveva essere Sender, come è andato poi quel primo periodo perché ho anticipato che ci sarà un grosso pivot però c'è una bella storia lì. Il case study era come sviluppare dei business model che potevano complementare quello di BlaBlaCar e l'idea iniziale che avevamo detto, beh, BlaBlaCar che non ha un ride sharing platform dove persone che vanno da una città all'altra possono mettere a disposizione il posto libero in macchina mi hanno detto, beh, posso solo trasportare persone, si può trasportare anche dei pacchi quindi ho detto facciamo un same day per il delivery dei pacchi poi già nell'anno all'NBA abbiamo capito che la frequenza delle macchine BlaBlaCar non era sufficiente per offrire un'alternativa a magari servizi postali esistenti quindi poi abbiamo avuto la brillante idea di utilizzare i Flixbus quindi i bus che anche sulla loro lunga distanza appunto avevano questa frequenza avevano anche molte più capacità e abbiamo detto, bene, aggiungiamo un ultimo miglio per offrire a grandi e-commerce la possibilità di consegnare pacchi lo stesso giorno e l'idea era perché ci sono due grandi e-commerce Amazon e Zalando che in quel tempo avevano lanciato proprio il servizio same day e quindi la nostra ipotesi era degli e-commerce più piccolini anche loro prima o poi dovevano offrire same day e la tratta lunga quindi dal fulfillment center alla città è quella che costava parecchio se non si avevano i volumi giusti quindi abbiamo detto con i Flixbus possiamo coprire a un prezzo ragionevole alla distanza e poi l'ultimo miglio con i corrieri tra la delivery quindi una volta finito l'NBA spostati a Berlino con il mio primo co-founder ci abbiamo provato un anno abbiamo firmato una partnership esclusiva con Flixbus avevamo due hub, uno a Berlino, uno a Hamburgo abbiamo detto adesso si parte e poi dopo circa un anno avevamo zero fatturato, zero clienti avevano finiti anche i soldi che avevano raccolto dai nostri compagni di classe professore, qualche amico e quindi poi ci siamo trovati in un momento veramente difficile Facciamo una breve pausa per parlarti dello sponsor che ha reso possibile questo episodio Startup Geeks, il più grande incubatore online in Italia per aspiranti imprenditori e startup hai una startup innovativa e stai cercando capitali per portarla a livello successivo allora il club degli investitori di Startup Geeks è l'opportunità che stavi cercando per accelerare la tua crescita questo club ti permette di accedere a un gruppo selezionato di investitori che conoscono il tuo settore e che sono pronti a supportarti con capitali, mentorship e strategie mirate Entrare nel club degli investitori significa avere accesso a una rete di business angel pronti a investire visibilità diretta e connessioni strategiche con altri imprenditori e professionisti Inoltre, sarai seguito passo dopo passo dalla presentazione del tuo progetto fino alla raccolta di capitale per assicurarti il miglior risultato possibile E, cosa fondamentale, la partecipazione del startup è su selezione per garantirti un supporto personalizzato e la massima attenzione al tuo progetto Se pensi che la tua startup abbia tutte le carte in regola per raccogliere capitali visita il sito sgeeks.it slash investment club e scopri come puoi candidarti come al solito tutti i dettagli nelle note Ci piace anche raccontare storie che non partono subito super bene, no? Perché fanno vedere anche un po' la resilienza che c'è dietro Cosa ti ha spinto ad andare avanti quando comunque non avevate avuto quell'attraction quel primo anno? So che c'è stato anche un viaggio in Giordania a convincere un investitore poi col tuo co-founder le cose non sono andate cioè lui ha deciso di percorrere un'altra strada e ci riporti lì in quel momento In quell'anno dove sapevo che comunque non avevamo clienti quindi non andava che mi faceva andare avanti era quella paura di dover tornare dai miei amici e dire grazie mille per avermi finanziato un bellissimo anno dopo l'NBA io torno in consulenza, tante cose belle, i vostri soldi li ho investiti ma non è andato a buon fine veramente tanta 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 paura di dover fare quello Poi alla fine abbiamo avuto quando stavano finendo i soldi la grande fortuna di incontrare un angel quando abbiamo fatto un pitch così a dei business angel e uno era molto interessato e ha detto che voleva investire noi gli abbiamo chiaramente detto che eravamo proprio stretti col cash e quindi ha detto che vi anticipo dei soldi che poi convertiamo l'investimento più in là e quindi qualche settimana dopo è tornato a Berlino lui è tornato dal Canada in Giordania e per appunto finalizzare tutto abbiamo firmato un term sheet anche abbastanza importante erano mezzo milione giusto? mezzo milione esatto, mezzo milione di term sheet in quel momento io pensavo bene il business model non funziona però ha messo un milione troviamo un modo per farlo funzionare e quindi ho detto bene diciamo ciao all'angel e incominciare a festeggiare e dopo aver salutato l'angel il mio primo co-founder mi ha chiesto di tornare nella stanza dove erano passate le ultime 2-3 ore a negoziare appunto questo term sheet che avevamo firmato e è arrivato subito al dunque e ha detto David io lascio Sender me l'ha anche spiegata perché il business model che non andava abbiamo già paura di tornare ai nostri investitori proseguire per una strada dove non sapevamo andasse solo perché avevano dei fondi secondo lui non era la cosa giusta da fare e siccome in quel periodo condivevamo anche un appartamento poi si andava a festeggiare comunque abbiamo preso una bella birra fresca e abbiamo fatto una bella passeggiata per tornare a casa in quella passeggiata abbiamo già deciso e pianificato come andare alla corte qua in Germania per l'insolvency procedure e abbiamo anche pensato gli 8-9 dipendenti che avevamo dove poterli posizionare in altre start-up che conoscevamo una volta arrivato a casa ho chiamato mio papà che mi aveva seguito molto mi aveva aiutato anche molto gli ho spiegato la situazione mio papà mi disse David è una bella esperienza per un imprenditore giovane capire cosa significa quando devi mandare una società in insolvenza poi ho detto prima di fare quel learning c'è un'ultima cosa che devi provare e se va a buon fine puoi sempre decidere di non andare avanti poi devi provare e lui mi disse vai a provare a convincere l'imprenditore l'angel investor comunque a investire solo in te e io ho detto il mio papà diceva provaci caso mai ti dici di sì comunque puoi dire di no se non hai voglia se ti dici no e no prosegui per la tua stada quindi ho chiamato poi questo angel il cavolato nero perché chiaramente pensava che io sapessi della partenza del mio co-founder e gli angel investono nel team quindi nei co-founder quindi era un po' finita la fiducia e a un certo punto io gli chiesi posso venire a trovarti per parlarti di persona perché comunque è una persona molto buona molto in gamba e mi dispiaceva anche molto averlo deluso quindi ho detto va bene adesso sono in Giordania se vuoi vieni quindi il giorno dopo ho preso un aero sono andato a trovarlo ho contato con tutta la famiglia ho fatto tanto tanto chit-chatting e poi a un certo punto con un gruppo dei suoi collaboratori sono andati in un'altra stanza ho incominciato a negoziare loro dicevano sì ma il rischio adesso è salito solo un investitore abbiamo bisogno di più shareholding hanno detto guardate se viene da troppo a voi poi non posso fare più il fundraising alla fine a me non rimane niente alla fine di una bella giornata di negoziazione abbiamo trovato un accordo e quando poi ho salutato tutti e questo angel mi ha portato alla porta mi disse una cosa che non dimentichavo mai mi guardò negli occhi e mi disse david non fallirai io nella mia testa dicevo cavolo io ho provato a dire che questo è una startup e quindi ci sono dei rischi associati all'investimento però gli chiesi perché credi che non fallirò e la sua risposta fu perché adesso sei parte della nostra famiglia e non ti lasceremo fallire e quindi questo è probabilmente il momento nella mia vita dove ho sentito più pressione infatti sono tornato subito all'aeroporto e ricordo ancora nel taxi pensando forse adesso è il momento di dire no ma non grazie perché continuare e avere ancora più pressione è cosa che già facevo fatica a gestire prima di chiudere questo deal ho detto magari no poi sono arrivato a Berlino poi sono passati due giorni e poi a un certo punto è passato anche il momento dove potevo fare quella chiamata a dirgli di no e a posto di chiamare l'angel per dirgli di no ho chiamato un mio amico che ho incontrato anche in consulenza Roland Berger e gli dissi guarda Nico c'è una società c'è 500 mila euro che stanno per arrivare ho qualche idea su come evolvere il business che ne dici? e lui era da Rocket Internet che in quegli anni era la dove gli imprenditori del futuro erano e quindi lui eravamo lì e poi riscreò anche la sua realtà e quindi mi disse subito sì vengo vengo da Sender e poi era il primo passo verso il pivot che poi abbiamo fatto questa storia è bellissima mi piacciono ovviamente tutti questi aneddoti di tuo padre poi di quello che ti ha detto lui non immagino la pressione soprattutto quando non hai ancora un business model concreto no? perché a quel punto non sapevi come avresti fatto il pivot infatti quindi ti raggiunge questo questo tuo amico come co-founder e poi come è cambiata l'idea di Sender a quel punto è diventata l'idea di Sender che è adesso che è oggi? allora da un attimo di contesto quello è proprio il periodo dove poi entrando nico il mio nuovo co-founder io volevo anche uscire dall'appartamento dove vivevo col mio primo co-founder quindi col mio nuovo co-founder poi gli ho chiesto di darmi per qualche notte una stanza o comunque possibilità di dormire con lui e lui mi disse guarda sono con Julius che conosci anche ti devo dire siamo due adulti l'appartamento 48 metri quadri poi c'è una piccola stanzina dove teniamo le scarpe non chiedermi perché erano così tante scarpe ma forse sono stati carini hanno tolto tutte le scarpe io sono andato da Ikea ho preso uno di quei letti piccolini che c'entrava proprio perfetto la porta non si apriva pienamente però il letto ci stava e poi mi sono trasferito lì qualche notte è entrata qualche settimana qualche settimana qualche mese e Julius era il terzo coinquilino che aveva la stanza più grande quindi tutte le sere alla fine ci trovavamo nella sua stanza a discutere su come sviluppare il business model eh to cut a long story short tre mesi dopo lui non era scelta ed è poi entrato come terzo co-founder ed allora lavoriamo insieme come co-founder tutti ancora qua a Sender e con Nico e Julius poi abbiamo sviluppato il business model adesso per rispondere alla tua domanda come abbiamo sviluppato il business model anche qua abbiamo fatto un po' lo stesso sbaglio che abbiamo fatto la prima volta non abbiamo fatto veramente i nostri compiti chiedendo veramente ai clienti che cosa volevano stanno veramente col product market fit e quello che abbiamo fatto è che siamo andati a quei grandi e-commerce che già offrivano al same day e abbiamo detto signori sappiamo che voi avete una delivery chain dove fate tutto da voi riprendendo dei piccoli van per la linea portando nella città e poi il vostro ultimo miglio proprio perché non ci date le città più piccoline dove non avete ancora i volumi per appunto fare la soluzione end-to-end vostra e noi vi utilizziamo appunto il Flixbus e l'ultimo miglio siamo guardati hanno sorriso l'idea carina però secondo me non funziona però hanno visto che nella nostra presentazione che avevamo dato vicino al Flixbus c'erano questi piccoli van questi camioncini perché la prima domanda che tutti ci facevano ma cosa succede se il Flixbus è pieno e non ci stanno più i pacchi e la nostra risposta era allora prendiamo un piccolo camioncino e ce li mettiamo li mettiamo là dentro e poi ci hanno chiesto ma ce li avete questi piccoli veicoli che ci hanno detto certo certo che abbiamo fatto neanche un trasporto di un pacco e poi abbiamo chiesto perché cercate questi veicoli e perché ci risponde che tutti i fornitori logistici a cui chiedevano questi veicoli per fare la linea quindi la lunga tratta da fulfillment center alla città non erano disponibili perché questi mezzi circolavano nelle città e non sulla lunga distanza sulla lunga distanza ancora tutt'oggi la maggior parte sono camion grandi e non quelli piccolini quindi non avevano accesso a questi veicoli ce li avete voi? abbiamo detto chiaramente ce li abbiamo ed è qua stato il momento del pivot poi per quasi un anno abbiamo fatto veicoli piccolini tre tonnellate e mezzo quindi quei camioncini che si vedono in città per le deliveries che non abbiamo utilizzato appunto per fare tante deliveries al giorno ma abbiamo detto vai la notte carica i pacchi e porta lì in città cinque ore dopo o anche il pomeriggio così vengono consegnati la sera e siamo partiti così e poi solo lì abbiamo capito che il business model poteva essere ancora più grande e ripeto quasi un anno dopo abbiamo capito che potevamo passare dai piccoli camioncini a quei bei veicoli grandi camion quelli che si vedono sull'autostrada e quindi abbiamo fatto appunto questo pivot completo sì da allora è stata una scalata continua una crescita esponenziale del business ma se dovessi tornare indietro al tè di quel tempo quando stai facendo quel pivot che consiglio ti daresti in quel momento? no prima del pivot mi avrei detto smettila e non continuare non ha senso fai prima compiti e poi continuare i compiti cosa intendi per compiti? compiti capire meglio il mercato andare veramente a chiedere che cosa volesse il mercato i clienti che cosa fosse un servizio per il quale i clienti erano disposti anche a pagare qualcosa noi tutto questo l'abbiamo fatto nel primo business model abbiamo detto e-commerce più piccolini avranno bisogno di same day ma mica ieri abbiamo chiesto ha detto vi facciamo il suo servizio e adesso compartelo invece avevamo chiesto prima abbiamo capito che nessuno voleva pagare 3-4 euro in più a delivery perché pensavano anche nel primo momento lo faccio pagare al mio cliente l'aspettativa del cliente due anni dopo è che è for free e tutti poi alla fine un anno dopo abbiamo capito che quali erano i margini che facevano e quindi e-commerce con cui parlavamo dicevano non ha senso perché prima o poi non abbiamo più abbastanza margine per portare avanti quindi questo è un esempio poi anche quando abbiamo fatto il pivot prendendo questa opportunità con questi questi piccoli mezzi anche lì in teoria avremmo dovuto fare due passi indietro andare a chiedere anche altri clienti ma questo è un servizio che servebbe anche a voi che cosa vi manca come possiamo farlo meglio tutte cose che non abbiamo veramente fatto che avremmo dovuto fare e che consiglio a tutti imprenditori specialmente che sono all'inizio di fare e quindi abbiamo avuto molto molto fortuna e non abbiamo non abbiamo smesso e quindi prima o poi abbiamo trovato qualcosa che funzionava ma tornando indietro mi avrei detto fai un passo indietro fai i compiti e poi riparti è molto utile questa cosa perché uno esatto pensa ho la soluzione a un problema magari quel problema non esiste o quel problema risolto nel modo in cui tu pensavi di risolverlo non è come non è la soluzione che nessuno vuole pagare per risolvere quel problema esatto esatto e a che momento come ti sei reso conto come vi siete resi conto di aver raggiunto product market fit con il pivot? cioè c'è stato un segnale qualcosa? il segnale era che fatturavo che sceva che sceva che sceva quindi dopo un anno e mezzo di zero fatturato era veramente una bella sensazione poi chiaramente l'altro segnale era che c'erano i primi venture capital che erano interessati poi il primo round è stato un po' più difficile perché in quel momento in Germania c'erano 7-8 player che facevano la stessa cosa in Europa una ventina uno in Spagna che ha ricevuto anche un bel funding e quindi avevano fatto un po' fatica al primo round perché tu dici non ci piace l'Uber per i camion Ascenso ma ci sono troppi player quindi ci sono tutti tornati tra un anno e fateci vedere che voi siete più bravi a scalare la società e poi vi diamo i soldi e noi abbiamo detto grazie per mezzo milione ormai è finita abbiamo bisogno di altri fondi e poi abbiamo avuto un fatturato che cresceva perché avevano trovato un modello con dei clienti anche molto grandi che ci hanno dato veramente una mano e poi abbiamo trovato il primo investitore istituzionale Scania dalla Svezia che parte del gruppo volkswagen quindi un produttore di camion veramente importante che ha creduto in noi e ci ha dato poi il primo finanziamento bello importante e poi sono partiti ancora di più perché poi dovevano crescere il team abbiamo poi aggiunto anche dei clienti nuovi oltre quei due o tre che avevamo nella prima fase e poi anche gli altri i venture capital che non erano ancora convinti li erano convinti e poi sono riusciti a raccogliere tanti fondi per continuare a scalare quella deve essere una bella sensazione quando le persone che ti hanno detto no all'inizio poi vogliono assolutamente entrare ed investire e nel 2020 dopo anni insomma di buona e buonissima crescita veloce un altro modo per diciamo di crescere immagino sia stata anche la parte di acquisizione quindi nel 2020 avete acquisito l'attività di trasporto merci di Uber in Europa ci racconti un po' di questo deal se ci riporti lì quando Uber Freight ha deciso di venire in Europa tutti i miei investitori avevano paura Uber hanno tanti fondi hanno soldi vendono sotto un pezzo di mercato faremo fatica e quindi tutti preparatevi sarà veramente dura e noi a quel tempo eravamo già un po' più grandi di Uber Freight e avevamo appena ora stavamo concludendo la prima acquisizione un player francese si chiama Everroad e mi ricordo ancora mentre eravamo letteralmente dal nottaio Uber Freight scrive a quello che stavamo per comprare dicendo dopo l'acquisizione quando è conclusa sentiamoci in quel momento pensavo beh hanno già capito che i due più grandi si mettono assieme magari hanno detto bene sarà una discussione molto molto interessante pensando che ci volessero acquistare invece no hanno detto noi vogliamo vendere l'Europa siete interessati a comprare e noi hanno detto se le condizioni sono quelle giuste assolutamente sì poi abbiamo fatto un po' di trattativa e alla fine abbiamo avuto la possibilità di acquistare le loro operazioni europee cosa che è stata fondamentale non tanto per il fatturato il business che hanno portato che tra di noi non era proprio il miglior business che avevamo perché erano molto aggressivi ma hanno portato tanta struttura e tanto management noi erano ancora molto giovani facciamo tutto la mano destra non sapeva quello che faceva la mano sinistra e poi grazie alle strutture e anche al management che Uber Freight ha portato dentro Sender siamo riusciti a strutturare la crescita non credo che avremmo avuto la possibilità di crescere quanto siamo cresciuti forse anche implosi senza quella struttura quel supporto manageriale di persone che hanno già molto più esperienza che hanno già gestito il nostro CEO che era l'ex CEO di Uber Freight in Europa è entrato appunto CEO lui era ex Amazon quindi una persona che già ne aveva visto tanto e ci ha aiutato tantissimo quindi quella è stata importante sia perché abbiamo comprato un po' il player competitor numero uno ma insomma al momento un'opportunità per noi veramente di crescere come società e nello stesso anno avete anche chiuso una joint venture con Poste Italiane che se non sbaglio è il vostro più grande cliente o uno dei vostri più corretti e quella è stata veramente la partnership che ha cambiato Sender che ha cambiato Sender ancora più dell'acquisizione di Uber Freight e il motivo è perché abbiamo avuto abbiamo ricevuto un'opportunità per triplicare il nostro fatturato nel giro di pochi mesi e devo dire che la D di Poste Matteo Delfante ha veramente dato una spinta importante a Sender e ha creduto in noi e questo ci ha permesso in Italia appunto di fare questa partnership dove abbiamo aiutato Poste o aiutiamo tuttora Poste che è come giustamente dice il nostro cliente più grande a gestire tutti quei trasporti da ABAP la maggior parte sono trasporti notturni dove pacchi alcune lettere vengono appunti trasportati da città a città non facciamo l'ultimo miglio ma quei camion in grande appunto da lunga distanza e abbiamo portato tanta visibilità tanta ottimizzazione accesso a capacità aggiuntive perché il business è cresciuto molto da quando abbiamo preso in gestione e adesso se devo guardare indietro questa partnership con Poste è stata forse una se non la cosa l'opportunità più grande che abbiamo avuto e intanto bellissimo vedere che un'azienda italiana insomma abbia creduto in una start up perché comunque si è magari eravate già una scheda tedesca come è nato però il Composte? cioè sono venuti loro a cercare avete voi picciato loro? c'è stata un'introduzione da parte di qualcuno? anche lì ho avuto tanta tanta fortuna per non dire altro sono andato a trovare un mio carissimo amico che era in vacanza io proprio le prime armi adesso il business funzionava erano ancora piccolini con mille problemi e gli ho raccontato quello che facevo e mi disse david guarda che settimana prossima vado a incontrare l'AD di Poste hai voglia di aggiungerti e mi ha detto cavolo c'ho tanti quei problemi sinceramente no però alla fine mi ha convinto di andare con lui a Roma ho incontrato Delfante proprio prima di una sua vacanza nella Silicon Valley quindi era proprio lui stava per partire per andare in Silicon Valley e quando tornò era la mindset giusto e poi avevano continuato le discussioni con il suo team era proprio il momento giusto per portare a questo tipo di innovazione dentro il mondo poste e poi sono rimasto anche molto sorpreso dal management e delle strutture di poste che per me erano sempre molto old school non molto moderne non molto veloci infatti però ho visto un'altra realtà il fatto che l'AD fosse stato quello che ha portato e che tuttora segue il nostro progetto è stato il motivo perché siamo poi riusciti a sbloccare tutto quello che serviva per appunto scalare Sender in Italia dove oggi fattoriamo 250 milioni e siamo anche scale up ma già molto profitevoli e quindi il modello che adesso cerchiamo di replicare nel resto della WAP è stato un'altra acquisizione ancora più grande stiamo completando un'acquisizione ancora più grande che ci potrebbe portare a una scala paragonabile a quella che abbiamo in Italia proprio perché vediamo che in Italia quando abbiamo una certa scala il nostro business model funziona ancora meglio in realtà non ci ho chiesto ma il vostro business model esattamente adesso qual è? a mio nonno che è 90 io lo spiego come un Uber per il camion quindi da un lato abbiamo grandi clienti pensa a porti italiane forse è più facile pensare a Coca Cola che devono trasportare beni da A a B ma solo a lunga distanza quindi 500-600 km con dei mezzi pesanti quindi con i camion grandi questo segmento della logistica si chiama carichi completi o full truck load dall'altro lato del nostro business model abbiamo piccoli pradoncini che hanno 5, 10, 50 veicoli che mettiamo in contatto con i grandi clienti come Air Force e Coca Cola ma noi interagiamo non solo come intermediario ma siamo anche parte contrattuale unico punto di contatto per ambo le parti e utilizziamo appunto la tecnologia in mezzo per non solo dare più visibilità più trasparenza a tutti e due lati ma anche per ridurre tutto quello che sono i processi manuali quindi siete proprio una piattaforma tech non siete non avete nessun veicolo comprato da voi siete proprio ok questo episodio è sponsorizzato da Serenis lo diciamo sempre l'imprenditoria è un percorso fatto di alti e bassi e può essere anche un percorso molto solitario per questo è importante non perdere di vista la propria salute mentale e lo dice anche Paul Graham il founder di Y Combinator i migliori imprenditori sono quelli che si prendono cura di sé questo non vale solo per gli imprenditori e gli imprenditrici sia chiaro a volte facciamo fatica ad ammetterlo ma abbiamo tutti bisogno di aiuto la terapia può essere il supporto che ci manca se hai mai pensato di andare in terapia ma ti senti perso o persa e non sai come trovare il terapeuto che fa per te Serenis potrebbe essere la risposta Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale è un centro medico autorizzato che offre percorsi di psicoterapia psichiatria supporto psicologico online con oltre 1.400 professionisti in tutta Italia 100% psicoterapeuti con in media 11 anni di esperienza seguendo il link in descrizione o andando sul loro sito www.serenis.it troverai un questionario da riempire e da lì tramite un algoritmo proprietario la piattaforma ti connetterà con il terapeuta più adatto a te le sedute sono online e se il terapeuta solizionato non ti convince puoi facilmente cambiare Serenis ha deciso di offrire un codice sconto per tutti gli ascoltatori di Made It con il codice MADE IT 7 avrai un colloquio gratuito e un'agevolazione di 7 euro sulle successive 3 sedute parlando un po' di fundraising quasi 10 anni hai raccolto più di 350 milioni di dollari da enormi fondi come Lake Star Axel Bailey Gifford e HV Capital e dall'esterno quando si vedono questi mega annunci di round può sembrare che è stato tutto molto facile che tutti ti volevano tirare i soldi dietro perché la tua idea è l'attraction insomma però non è quasi mai così quindi ti volevo chiedere quanto è stato difficile raccogliere tutti questi capitali e se hai consigli anche insegnamenti che potresti dare ai nostri ascoltatori per tirare su così tanti capitali da venture capital non è sempre stata facile ci sono fasi difficili c'è stata una fase molto difficile all'inizio dove erano ancora piccolini dove c'erano tanti altri che facevano qualcosa di simile poi c'è stata una fase anche dove il mercato del venture capital era on fire e quindi c'era tanta voglia di investire i modelli che crescevano ricevono tante opportunità e poi quella è un po' la fase centrale e poi ben sai qualche anno fa il mondo del venture capital è rallentato parecchio e quindi ci troviamo di nuovo una fase un po' più difficile per quanto riguarda il fundraising in generale tranne se sia il titolo AI o Artificial Intelligence nel nome della società e quindi non è sempre stato facile e credo che per tanti founder al momento non è proprio facile raccogliere fondi quindi ho imparato tanto in questi anni la prima cosa che ho imparato è che alla fine qualsiasi investitore specialmente early stage ma anche later stage investe nel team o investe nel founder quindi è estremamente importante sviluppare un rapporto del primo contatto fino alla firma e anche oltre però anch'io ho sbagliato e anche founder in cui ormai investo un po' come Agile io vedo che cerco di andare subito sul transazionale andare subito questo è il mio business model che funziona alla grande e ecco perché saltano quella parte che forse è ancora più importante di creare quella connessione umana quel rapporto di fiducia che poi alla fine serve all'investitore per dire sì io ci credo perché tanto so che quell'imprenditore dovrà svoltare un paio di volte per arrivare dove deve arrivare quelle svolte non sono facili quindi l'imprenditore che è a cui credo quindi questo è un primo lavoro importante infatti anche quando poi si è in fase di negoziazione quando si scrive un term sheet ogni 2-3 giorni al più tardi bisogna avere un punto di contatto con l'investitore una chiamata un incontro un messaggino un'email poi bisogna cercare veramente di creare questo rapporto specialmente nelle fasi finali delle negoziazioni che poi portano alla firma e la seconda cosa che ho imparato ne ho imparato tanto ma ti dico la seconda e poi mi puoi smettere che gli investitori devono spesso vedere che c'è qualcun altro che è anche interessato è raro che un investitore sente che tutti ti hanno detto di no e loro io ti dico di sì e quindi questo cosa significa che quando si fa un fundraising non si può fare un fundraising dove si dice bene incomincio a scrivere i primi 10 investitori perché se mi dicono di no scrive i prossimi 10 investitori poi sei arrivato al numero 100 e ti dicono ancora di no a quello che io non sapevo che tutti gli investitori sono in gruppi whatsapp e se voi sei mesi dopo uno scrive ma avete sentito di sender e uno risponde sì sei mesi fa gli ho detto di no non non aiuta molto utile questo consiglio di andare veloce e parlare con tutti diciamo più o meno al suo tempo esatto proprio quello del learning di strutturare ovviamente il round magari prendersi un po' più di tempo per finalizzare i documenti finalizzare con chi vuoi parlare quali sono i punti di contatto chi ti fa l'introduzione perché scrive un'email a qualcuno non serve qualcuno che ti fa una intro strutturare tutto quello e poi veramente nel giro di due settimane andare fuori e approcciare tutte quelle quei fondi investitori che ti piacerebbero che hai sulla lista e poi di creare un po' questa dinamica FOMO fear missing out e poi anche tu ci stai guarda beh allora non ti dico più niente ci risentiamo tra due mesi e poi sappiamo se uno di noi ha investito e quindi bisogna bisogna veramente creare questa dinamica un po' competitiva perché agli investitori serve poi alla fine per creare quella conviction che porta all'investimento certo no questo contesto è super utile quindi grazie di averlo di averlo condiviso perché uno pensa aspetto esatto perché magari ho altro lavoro da fare però poi rendi quella cosa di sei sentito qualcuno sei mesi prima e non ha non ha voluto procedere cioè c'è quella cosa di you don't look sexy anymore no? esatto cioè l'investimento sembra una old news quindi no iper importante e Sender ha registrato una crescita enorme in un breve periodo di tempo e prima le aziende si costruivano su decenni e per arrivare diciamo alla scala di un'azienda come Senderogica mille più di mille impiegati undici uffici nel mondo cioè ci mettevano magari quaranta cinquant'anni no? ovviamente col venture capital e queste iniezioni di capitale super elevate vogliono portare una crescita esponenziale molto rapidamente qual è stata secondo te la forza trenante di questa rapida crescita? sono state le acquisizioni che avete fatto il business model giusto? cioè qual è stato un po' il motore di questa di questa crescita oltre ai capitali? della fortuna è stata credo il motivo principale il secondo motivo è che come società Sender ci siamo reinventati tantissime volte non solo quando abbiamo cambiato il business model ma anche col business attuale ogni volta che raddoppi specialmente il personale ma anche il fatturato devi cambiare tantissimo devi cambiare tantissimo come funziona l'organizzazione qual è la struttura qual è il tuo management e quindi questi 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 passi che si fanno sono molto molto difficili perché bisogna cambiare fondamentalmente come si lavora con chi si lavora e come ci si muove e credo che qua abbiamo avuto anche sempre nel momento giusto anche le persone giuste al nostro fianco manager dentro ma anche advisor e investitori fuori che ci hanno o che poi abbiamo portato dentro per in quei momenti chiave dove dovevamo fare appunto questo passo per proseguire la scalata siamo riusciti a farlo e non è ancora la fine del viaggio perché tante startup a un certo punto si bloccano si bloccano spesso perché non riescono a fare questo passo che poi porta ok l'investitore non mette più i soldi perché vedono che non fanno questo passo per scalare il cliente più grande non viene perché vedono che la piattaforma non riesce a scalare tutte queste cose quindi ci sono sempre ogni due anni più o meno all'inizio magari anche ogni anno bisogna veramente trasformare la società girarla completamente e qua è qualcosa che secondo me forse abbiamo fatto benino che sicuramente è stato fondamentale per continuare a crescere e continuare a diventare sempre più grandi ci raccontavi prima della parte personale che avevi vissuto comunque con grande pressione all'inizio dell'avventura con Sender l'idea di fallire e dover dire gli amici che avevano perso i soldi adesso hai mandare le persone a casa adesso sei passato da sette persone a comunque mille hai tirato su molti più capitali come gestisce adesso questa pressione che hai addosso comunque che ha esponenzia molto più grande la pressione è cambiata la pressione che avevo all'inizio dopo aver appunto la paura di dover tornare ai miei amici è cambiata e avevo paura che tutti i giorni poteva essere l'ultimo giorno perché all'inizio eri dipendente c'era un manager che ti cambiava e se quello ti lasciava non funzionava più niente c'era un cliente grande che ti faceva 50% di fatturato se quello ti lasciava non poteva andare quindi anche altre paure un camion che nel momento sbagliato fa l'incidente sbagliato e poi anche lì quindi è sempre quella paura che ogni giorno può essere l'ultimo anche perché in termini di funding vai più da mese a mese o da anno a anno ma degli orizzonti molto più brevi quindi c'è sempre quella paura che domani non sopravvivi invece adesso la persona è diversa perché comunque adesso la responsabilità con mille dipendenti è cambiata parecchio è una responsabilità molto più grande e comunque noi dobbiamo ancora rischiare chiaramente rimaniamo alla grandezza diventiamo sempre pronto non continuiamo a scalare ogni volta che si prende si fa appunto quel passo quella trasformazione bisogna prendere dei rischi importanti però la responsabilità è molto molto più grande e quindi adesso la persona arriva più dal fatto che comunque bisogna prendere dei rischi e le conseguenze se si prendono rischi sbagliati sono ancora più importanti non sono più i miei amici ma ci sono tante famiglie che potenzialmente poi ne soffrono le conseguenze però è una cosa che dobbiamo fare perché altrimenti se si fossimo fermati già 3-4 anni fa non saremmo diventati quello che siamo e noi abbiamo scelto anche la strada del venture capital che fino a quando non siamo veramente tanto tanto grandi e tanto tanto profittevoli comunque ci spinge sempre per cercare quel prossimo passo che ci porta avanti in modo più veloce di tutti gli altri e a livello di gestire questo adesso c'è qualcosa che fai non so che può essere lo sport può essere parlare con gli amici la tua moglie non lo so qualsiasi cosa c'è qualcosa che ti aiuta a gestire questo livello di pressione andare a letto comunque e dormire assolutamente beh mio figlio che è appena che è appena nato sicuramente aiuta perché adesso la notte quando mi sveglio penso a lui e non ha tutti quei problemi e aiuta a farmi riaddormentare è molto più velocemente quando non mi tiene sveglio lui però negli ultimi 5-6 anni ho trovato anche due cose che mi veramente mi aiutano e cose che quando avevo 20 anni non avrei mai accettato la prima è un coach o mentor quindi un business coach cosa che consiglio a tutti ripeto se qualcuno mi avessi detto quando ero 25 anni ho detto sì ma io mi copro problemi cosa devo andare a vedere un business coach invece adesso ho capito qual è il valore in quanto credo tutti abbiamo sempre dei conflitti dei problemi che non vogliamo risolvere subito quello che succede spesso è che ci riportiamo avanti per troppo tempo perché non prendiamo mai tempo veramente a riflettere e quindi quello che a me ha aiutato veramente è avere questo coach che 3-4 ore quarter e 1-2 ore a mese mi mette proprio on the spot e mi dice quali sono le cose che ti tengono sveglio la notte quali sono i problemi poi non mi dice lui la soluzione ma mi fa le domande giuste in quel momento poi io non ho neanche scelto di dire beh ci penso domani settimana prossima mese prossimo le devo risolvere in quel momento almeno pensarci in quel momento e mi aiuta tantissimo perché riesco a sbloccare tantissime cose che altrimenti non mi fanno dormire che non mi fanno non mi fanno dare il massimo quindi questa è la prima cosa e poi lo sport anche lì ancora fino a 3-4 anni fa facevo sport quasi tutti i giorni ero molto disciplinato e pensavo questo basta invece poi tramite il coaching ho capito che magari anche il coaching a livello sportivo può aiutare quindi ho cominciato a lavorare con un trainer anche qua può sembrare perché non ci vuole invece anche qua adesso faccio 2-3 volte a settimana sport solo e non 5 ma riesco a fare molto di più perché ho qualcuna che mi spinge che mi fa il 20-30% di più e mi fa anche imparare delle cose nuove e fare delle cose nuove che da solo non hai fatto e quindi anche stamattina sei sei di mattina faccio sempre fuori nel parco un'oretta e mezza di sport sono arrivato in ufficio stamattina carichissimo pieno di energia e magari la terza cosa non so come si chiama in italiano ma faccio intermittent fasting quindi mangio da pranzo a cena e salto praticamente la colazione e anche questo mi ha aiutato a tenere la mente ancora più più sharp mi aiuta anche tantissimo un'altra domanda che ti mi piacerebbe che mi piace fare anche alle persone è e la voglio fare a te da dove viene la tua motivazione cioè questa voglia di alzarti spaccare crescere prendere i rischi apparentemente c'è due due risposte a questo la prima è che comunque ho capito presto quando ho capito un cartellino che la vita è limitata e quindi ho realizzato che comunque nella mia vita voglio fare tutte quelle esperienze che posso fare e ogni giorno spingermi e fare il massimo di tutti i giorni e ho capito che ho l'unico modo per me per appunto spingere me stesso a avere queste esperienze il massimo che posso avere tutti i giorni è diventare imprenditore perché ogni giorno è diverso ogni giorno si cambia tanto si cresce tantissimo e quindi questa forse è la prima parte della risposta a me piace proprio questa esperienza perché spingo ma imparo e ogni volta che vado a letto dico bene oggi non avrei potuto fare molto di più avrei potuto fare tante cose diversamente ma comunque dato veramente il massimo e siccome so che la vita è limitata è una cosa che per me è importante e la seconda cosa che poi anche nei momenti difficili mi fa andare avanti è il pensore che comunque adesso sacrifico tanto tanto lavoro molto in giro molti sacrifici anche emozionali che bisogna fare per poi avere un giorno la possibilità di avere una famiglia così come me la immagino io e dare adesso per un momento al mio piccolo figlio e la famiglia che poi ne deriverà quella vita che mi immagino e siamo arrivati alla fine dell'intervista che di solito chiediamo con una famosa ultima domanda che però la devo leggermente cambiare per te perché non sei italiano ma ti vorrei chiedere in che modo parlare italiano diresti che ti abbia aiutato nel tuo percorso tantissimo tanto perché credo che con ogni lingua si impara una cultura la cultura italiana forse la cultura non forse è la cultura più bella che c'è e la seconda cosa è anche da un punto di vista business io con Poste non avrei mai potuto sbloccare quel business che oggi abbiamo se non parlavo italiano ha creato quella fiducia in più no? quel contatto anche quel rapporto personale di fiducia anche nel senso prima dicevo l'investitore deve credere nell'imprenditore ma anche una persona come la Didi Post del Fante ha dovuto credere in me come persona e quando hai comunque una lingua una cultura che condividi è molto molto più facile di quando magari arrivi da due culture diverse la cultura tedesca può essere anche molto molto secca e molto diversa quindi non so se avrei avuto la possibilità di creare appunto quel rapporto di fiducia sia con la Dima che con tutte le persone sotto quindi ha cambiato tanto scusami ti voglio fare un'ultimissima domanda ho detto che era l'ultima ma sull'ecosistema startup italiano che tu vivi l'ecosistema startup tedesco che in Europa è tra i più forti hai qualche non so se conosci un po' l'ecosistema italiano però siamo comunque indietro rispetto alla Germania hai dei consigli da darci per gli ascoltatori italiani che sono investitori sono startup per persone interessate a questo mondo? il consiglio forse non ce l'ho perfetto però l'Italia ha tantissimi talenti ha degli imprenditori incredibili e quelli bravi bravi fino a probabilmente due o tre anni fa dovevano lasciare l'Italia per crescere e gli ultimi due o tre anni o quattro anni è cambiato molto positivo perché è cambiato perché ci sono più fondi anche se pochi pochi italiani comunque su questi questi casi isolati riescono ad aiutare poi c'erano anche fondi al di fuori dell'Italia che ormai riescono a investire anche in Italia cosa che quattro anni cinque anni fa manca però secondo me quello che sia l'ecosistema italiano è ancora più investimento più investimento che non deve partire solo dai fondi ma deve partire anche prima se io non avesse avuto quell'Angel di cui raccontavo non andavo da nessuna parte in Italia ci sono Angel ma ce ne sono meno a Berlino ognuno si definisce quasi Angel perché metto cinque mila euro duemila euro in due o tre startup è diventato Angel in Italia questo manca ancora poi c'è la parte dei fondi anche qua sta cambiando un pochino ma anche qua secondo me i fondi italiani magari quando specialmente fanno i primi investimenti ricevono i primi shareholding adattarsi più un po' a quelle che secondo me sono le medie europee quello che vedo io e tanti fondi più piccoli italiani tendono a prendere magari uno shareholding che non è salutare per la startup perché comunque bisogna fare diverse round e poi se già il primo round dai via 40% della società non va bene in Germania dai via 10-15 magari 20% se ti va male e quindi anche qua l'ecosistema deve migliorare comunque negli ultimi 3-4 anni credo che è successo tanto ancora le prime armi ma come avete o come hai ben capito a me l'Italia piace molto e sono convinto che se c'è un po' più di engine investing un po' più di fondi e magari una mentalità un po' più aperta anche a lasciare più spazio di crescita ai founder in Italia l'Italia può creare un bellissimo ecosistema per le startup grazie David grazie mille di essere stato ai nostri microfoni qui su Maded a condividere la tua storia e tutti i tuoi consigli penso che sia stato un episodio veramente molto molto utile per chi ci ascolta quindi grazie di aver preso il tempo ecco per essere stato qui con noi e sono contenta che sei un grande supporter dell'Italia quindi ti vogliamo vedere Angel Investor in Italia presto assolutamente sì ciao grazie mille ciao grazie ciao